Lo sai che c'è un film che sta dividendo completamente l'opinione pubblica francese? Sto parlando di vincere oppure morire, una pellicola uscita a febbraio di quest'anno e che parla della guerra di Vandea, un argomento abbastanza sconosciuto da rivoluzione francese che dal 1793 al 1796 mise l'uno contro l'altro le armate giacobine contro i vandeani, insorti, cattolici, che non accettavano i precetti della rivoluzione francese. Ora, il film, dall'intelligenza di Parigi, è stato accusato di revisionismo storico anche perché mette in dubbio uno dei valori fondamentali della Repubblica il fatto che la rivoluzione francese abbia portato soltanto luci e non anche delle ombre. In più, tra i produttori figura anche Vincent Bolloré, imprenditore Breton sempre al centro di argomenti divisivi come questi si capisce che la posta in gioco è quella di parlare alla pancia del paese e alimentare in qualche modo quella divisione che esiste tra Parigi, propriamente detta e il resto di tutta la Francia, che sicuramente ha un passo diverso rispetto alla capitale.